È stata una giornata lunga oggi, abbiamo giocato alla fine, dopo tutte le altre, quindi sono state tante emozioni, avevo paura, avessimo sprecato tante energie, forse troppe, invece i ragazzi sono stati bravi a fare una grande gara. E oggi io voglio dire grazie alle persone che ho intorno a me, Stefano Morrone, Gianluca Capogna, Francesco Vaccariello, Lello Senatore, Vittorio Carello e Mauro Caretta, perché insieme so con quanta dedizione, con quanta passione, con quanto coraggio abbiamo iniziato questo percorso. Quanta energia e quanta voglia abbiamo messo all'interno di questo percorso. Ringrazio tutte le persone che insieme a noi hanno aiutato i ragazzi a potersi esprimere, che sono i responsabili del materiale, i responsabili della comunicazione. Sicuramente qualcuno dimenticherò, però ringrazio i giocatori perché sono stati dei ragazzi e degli uomini speciali, perché per fare quello che abbiamo fatto oggi non bastavano ragazzi e uomini normali, servivano ragazzi e uomini speciali. Ringrazio il direttore perché lui mi ha sempre dispensato elogi e complimenti, non l'ho mai fatto pubblicamente, ma lui sa quanta stima ho nei suoi confronti e quanto sono stato orgoglioso di tornare a lavorare con lui perché ci eravamo conosciuti tantissimi anni fa. E' sicuramente una persona con grandissime qualità e infine, però non è infine, quasi in primis, in una giornata così bella, la ciliegina è che vogliamo dare questa gioia piccola o grandissima. In un momento difficile è una persona speciale che è il presidente, perché comunque ci ha permesso di raggiungere questo traguardo isperato, bellissimo, stupendo e che tutte le persone che ho nominato, che spero non devono essermi dimenticato nessuno, però tutti insieme siamo stati in grado di fare qualcosa di bello veramente.